E la nostra serata ha inizio con una band, la band Vipera. La band Vipera nasce alla fine dell'estate del 2013 dall'ormai collaudato duo di Nunzio, la Monica, Lorenzo Pinto e Davide Salemi. Tra i vari concorsi da segnalare, il terzo posto al Festival delle Bande Canavesane a Rivara, sempre proponendo idee inediti di genere pop rock. L'incontro con Lorenzo e Davide segna la svolta rock, rock progressivo. Nasce Vipera e si inizia a presentare nuove canzoni con il nuovo stile, dal sapore vintage. Il neo-gruppo sarà appunto ospite del nostro programma Summer 10 TV, programma che scopre nuovi talenti musicali e che trasmette in Piemonte e in Valle d'Aosta. Verranno proposte questa sera per noi alcuni dei loro brani. Il fascino del mistero di quel che ancora non c'è A lei sembra già tutto vero per realizzarsi in quello che è. Non voglio pensare a niente, il male verrà da sé. E li vedrai cadere, sai, senza poterli aiutare mai. Cassandra, parla al vuoto, nessuno l'ascolterà. Lei ancora si mette in gioco per informare tutti di quel che sa. Le nostre menti confuse sono fragili per spiegar Il tuo dono del futuro che presto ci farà dannare Non voglio pensare a niente, non voglio pensare a niente, il male verrà da sé. E li vedrai cadere, sai, senza poterli aiutare mai. Cassandra, parla al vuoto, nessuno l'ascolterà. Lei ancora si mette in gioco per informare tutti di quel che sa. Lei ancora si mette in gioco per informare tutti di quel che sa. Il male verrà da sé, il male verrà da sé.